benvenuti nella cucina di ricetta fagiolo oggi siamo nella casa di big carrot e prepareremo un muffin buono e naturale fatto proprio con le carote la ricetta fagiolo di oggi è il muffin carotoso ingredienti per i muffin carotosi 4 uova 25 g di zucchero semolato 25 g di zucchero di canna 200 g di farina di mandorle 30 g di farina antigrumi 20 g di fumina 160 g di carote 80 g di olio di semi 80 g di succo di arancia una bustina di lievito i muffin carotosi li preparo in 40 minuti e ne preparo 12 hai bisogno di un adulto e hanno un fagiolo di difficoltà allora vediamo che cosa dobbiamo fare per prima cosa dobbiamo raggiungere le carote quindi peliamo le nostre carote usiamo un pela patate che ci renderà tutto più semplice tagliamo i lati delle nostre carote e utilizziamo una grattugia per grattugiarle una volta che abbiamo pelato le carote le abbiamo grattugiate ricordiamoci di accendere il forno e di preriscaldarlo a 170 gradi adesso dobbiamo fare un lavoro divertente dobbiamo prendere le uova e dividere gli albumi dai tuorli mettiamo il bianco da una parte e rosso dall'altra adesso montiamo i nostri albumi frullino elettrico è divertente lo potete fare anche voi da soli vedete quando abbiamo montato gli albumi diventano come neve adesso dobbiamo montare i nostri tuorli cioè la parte rossa dell'uovo insieme allo zucchero e facciamo partire la nostra planetaria fino a quando i tuorli dell'uovo non risulteranno proprio montati 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 poi lo vediamo insieme come diventa e continuiamo ad aggiungere farina di mandorle farina olio succo d'arancia aggiungiamo le carote adesso prendiamo il nostro impasto al quale andremo ad aggiungere delicatamente gli albumi dell'uovo mettiamo un paio di cucchiai anzi tilecca pentole è questo stranissimo attrezzo che ci servirà per mischiare delicatamente all'impasto i nostri albumi mettiamo l'impasto nei pirottini ricordiamoci di non riempirli completamente perché dovranno comunque lievitare ecco pronti i nostri muffin carotosi buonissimi da mangiare semplici a me piace decorarli quindi ci metterò un filo di zucchero a velo e li decorerò con un ricciolo di carota questo in onore del nostro amico big carrot siete pronti per mangiarli perché fanno bene le carote perché contengono tanta vitamina A